Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli scrigni appetitosi. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 50 minuti. Gli ingredienti sono patate, sale, uova, burro, parmigiano, latte, pepe e per il ripieno serviranno uova sode, formaggio e speck. Andiamo via alla ricetta. Andiamo a mettere nel boccale il parmigiano e a tritare. 10 secondi, velocità 10. Togliere adesso il parmigiano dal boccale e mettere da parte. Senza lavare il boccale andiamo a posizionare la farfalla sulle lame, mettiamo le patate, il latte, e il sale. Andiamo a cuocere per 25 minuti, 95 gradi, velocità 2. Al posto del misurino andiamo a mettere il cestello. Adesso andiamo a mettere all'interno del boccale il parmigiano grattugiato, il burro e un pizzico di pepe. chiudere con il coperchio e montare per 30 secondi a velocità 3. Adesso togliamo il misurino, e con le lame in movimento andiamo ad aggiungere le uova. Mettiamo 15 secondi a velocità 2. e adesso aumentiamo a velocità 3. l'impasto è pronto. Adesso andiamo a mettere in degli scrigni che adesso vi mostro. Io ho imburrato queste ciotoline in alluminio e le ho rivestite con dello speck. Adesso andiamo a mettere il ripieno e a rifinirli. Andiamo a mettere un cucchiaio di composto, un po' di speck, l'uovo, il formaggio, un altro po' di purè. Ok, e adesso andiamo a chiudere. Andiamo a posizionarli in forno caldo a 180 gradi per un quarto d'ora e 20 minuti. Scrimi appetitosi. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.